Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPILIP, per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni, possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436, Francesca, senso unico alternato, il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16 fino al 31 marzo. Ricordiamo che a causa dell'emergenza coronavirus sono vietati gli spostamenti, salvo fatta necessità impellente, motivi sanitari o motivi di lavoro. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!